Anche il PD è contro l'ennesima trivielazione nell'Adriatico. Si tratta del pozzo Donata 4 Dir dell'Eni che estrarrà gas fossile a 20 km da Martinsicuro. I sindaci della zona hanno espresso la loro contrarietà, numerose le proteste degli ambientalisti e ora il PD chiede che la regione faccia ricorso al Presidente della Repubblica. Una risoluzione straordinaria per quanto riguarda sia l'urgenza che per i contenuti. Un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica perché ci sono vizi procedurali sollevati peraltro dagli innumerevoli sindaci della nostra regione, dalla provincia di Teramo, per passare a Pescara e a Chieti, per l'autorizzazione Dir 4 con la quale noi ci opporremo in tutte le maniere e i modi possibili. La regione Abruzzo voglio sottolineare che al momento in cui fu data la concessione alla fine della conferenza dei servizi, nella fine del 2019, non si presentò. Ci sono motivi per ritenere che è possibile questo ricorso straordinario raccogliendo l'invito di tutti i sindaci. L'impianto di estrazione di idrogarburi raggiungerà una profondità massima di circa 1200 metri su un fondale marino di appena 85 metri di profondità. Il timore è per l'ecosistema del mare più pescoso del Mediterraneo che dà lavoro a 10.000 persone per un volume d'affari di 300 milioni ogni anno. Parliamo di un territorio tra le Marche e l'Abruzzo che interessa ben tre parchi per quanto riguarda proprio l'aspetto ambientale marino, la Torre del Cernano, il Borsacchio, fino ad arrivare alla pineta d'Annunziana, in questo caso a Pescara, ma anche perché tutto il mondo sta andando verso un'altra direzione. Parliamo di economia circolare, di energia rinnovabile, non si capisce quale attualità possa avere la trivellazione e la coltivazione ancora della cosiddetta energia fossile dovuta quindi agli idrogarburi. Ecco perché noi chiediamo a gran voce che la Regione Abruzzo si faccia sentire e che interpelli il Ministero, la Regione Marche e se necessario vada avanti con un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Intanto questo Ministero della Transizione Ecologica forse è un po' poco ecologico? Assolutamente sì, si manterrà questo tipo di iniziativa per quanto ci riguarda, noi non possiamo che nel merito entrare punto per punto, questa roba qui non ci piace e quindi noi proporremo una risoluzione straordinaria e urgente al Consiglio regionale perché impegni il Presidente in tale direzione.